Eccolo qua, finalmente, l'assalto alla rocca del drago di Tiny Tina. Mezzo mondo lo aspettava. Tutti gelosi dei fusi orari più fortunati che avrebbero ottenuto il download per primi. Sono 800 Microsoft Points, quasi 2 giga, e aggiungiamo anche quelli che abbiamo scaricato qualche giorno fa come prerequisito per l'installazione di questo. Il che già la dice abbastanza lunga sulla quantità di novità, sulla ricchezza del gioco che stiamo per installare. Informazioni di servizio per i giocatori su PSN. Di solito sono quelli che ricevono l'aggiornamento più tardi perché scatta il mercoledì, ma per problemi di manutenzione pare che abbiano anticipato questa volta per la PSN. Per cui provate a controllare. E se già erano le vostre intenzioni, scaricatelo, perché altrimenti poi, mentre il sito è manutenzione, vi toccherebbe aspettare per chissà quanti giorni, potenzialmente. Tragedia. E questa è la località di partenza. Unassuming Docs. Of potentially little importance. Attenzione. Avvertimento spoiler. Sto per dire alcune cose che magari potrebbero in parte rovinarvi il piacere del gioco. Secondo me, nulla di che. Però, siete avvertiti. Mentre ci godiamo l'introduzione, che probabilmente parecchi di voi avranno già anche visto, se non per il fatto che erano inglese, sulle anticipazioni di qualche settimana fa, qualche parola sulle armi e i boss che troveremo in questo nuovo DLC. Ci saranno nuove leggendarie? Sì, però almeno non vi dico i nomi. Ci saranno nuovi oggetti unici? Sì, a tonnellate. Ce n'è qualcuno particolarmente interessante? E come? Ce n'è un paio che appena ho potuto leggere qualcosa su di essi? Mi è venuta la bava alla bocca. Uno è uno scudo sfiziosissimo, che deve essere molto divertente da utilizzare. Che ha come proprietà quella di riflettere i colpi dei nemici. Attenzione, eh? Non di assorbirli come lo sham o gli altri absorb shield. Li respinge. E se riuscite a colpire un avversario di limbalzo, otterrete fino all'ottocento per cento di danno, mi pare di aver capito. Uno spasso. E in più spruzzi di scoria tutto intorno. Sì, sì, fantastico. L'altra è una pistola che potrebbe addirittura far sfigurare la ruby per la capacità di rigenerare la salute. Non vedo l'ora di mettere le mie manacce anche su questa. Mi pare ci siano anche un paio di granate leggendarie, un po' di perlacce. Insomma, il quadretto comincia a farsi interessante. Raid Boss? Anche quelli, un po' nascosti. Questo è uno spoiler nello spoiler, quindi se non volete ascoltare saltate un pochino in là. Ok? Vado, eh? Pare si tratti di quattro dragoni, ciascuno con un potere elementale diverso. Quindi, immaginatevi una roba tipo quattro bloodwing, vi ricordate la sfida con bloodwing? Che vi tormentano. Ok, non so come andrà a finire. Intanto siamo arrivati. Lo scenario è meraviglioso, con dei particolari veramente carini curati come queste farfalle. texture tutte personalizzate per le giare e le altre casse. L'acqua è renderizzata in modo meraviglioso. L'impatto è estremamente accattivante. Intanto un'occhiattina alla mappa, largamente incompleta perché ovviamente abbiamo ancora esplorato poco. Siamo stati catapultati in un mondo gestito per così dire da Tina, in cui le regole sono scelte da lei, per cui potete bene immaginare che pasticci potranno saltare fuori. Dopo questi primi attimi di smarrimento, in cui ho fatto un po' la figura dell'accattone, andare a curiosarmi ogni meandro, in ogni interstizio, dirigiamoci verso la città, seguendo questo sentiero bucolico. c'è pure l'arcobaleno che improvvisamente però viene trasformato da Tina. Perché Lilith le fa notare che insomma, l'ambientazione non era molto in tema con quello che era lo scopo del gioco. In alto intanto la minimappa ha aggiornato qual è il nostro obiettivo, andare a questo Flamerock Refugee. Alcune cose ovviamente sono familiari, come questi mucchi in cui frugare. Immagino che tra poco troveremo qualche, eccolo qua, inconveniente. Scheletri signori, in particolare un mastro arciere. Quindi quello può fare, cavolo, fanno proprio male, da lontano e ancora più da vicino. E' bello anche un po' alla volta scoprire quali saranno le armi più efficaci. Ora io sto usando una Babymaker. Mazzà, mi ha fatto proprio male. Non ho una Herald? Sì. Vediamo se riesco. Ok. Santa Herald. Va bene, possiamo dire che l'arma esplosiva contro gli scheletri sicuramente funziona. Ma anche la Babymaker, basta un attimino, non mi aspettavo questa aggressività. No, invece, occhio, l'arma incendiaria non funziona molto bene. Poi magari proviamo anche le corrosive. Ok. Proviamo un po' con la corrosione. Questa è il Potential Butcher. Un'arma per l'acea. Ma qui c'è pane per i denti del White Dead. Ops. Polento oggi di riflessi, eh, sono. Ok, funziona a meraviglia. Dove ce n'è uno, ce ne saranno altri. Eccoli lì, immancabili. Divertiamoci un po' dalla distanza. Urca. Urca come corre questo. Brutto. Bah. Abbastanza inquietanti con quegli occhi infuocati. Che spadone. Oh, oh, oh. Ammazza. Ok. Devo stare un po' in campana, effettivamente. Adesso un po' un carosello di armi. Quasi quasi provo a equipaggiare una coppia di Babymaker. Così, ganzergando e scagliando con la ricarica, dovrei dare una gran botta sui denti che dovrebbe estendere qualunque dei nemici che finora ho incontrato. Finalmente ci stiamo avvicinando al primo vero centro abitato. Urca. Quando salta fuori Tina, di soli... Ecco, te pareva. Ok, andiamoci dentro. E che cavolo? Immune? Anche a questo? Ma dai, anche la corrosione. Ma con cosa cavolo ho fatto... Ma no! Ma... E con cosa lo faccio fuori? Appugni mentre vola. Ah! Ah, ecco il perché. È la solita esagerazione di Tiny Tina, che come primo boss ce n'ha messo uno invincibile. Poi però, cambia idea, cambia regola... E adesso trarà fuori un boss, che sarà almeno alla nostra portata. Però... Ci si era veramente cascati, eh? Forte. Vediamo un po'. Sì, sì, questo va giù. Mister culo suto. E beh, oh. È Tiny Tina. Ancora un colpo di Bibb Maker. Ok. Vai, vai, vai. Opla. Al pelo. Andiamo a scoprire quale comitato d'accoglienza ci ha riservato. Scheletro corrazzato. Ah, è più o meno come un golia, vedo, perché sta prendendosela. È abbastanza ottuso. Sta martellando il suo socio. Prego, faccia pure. Però, se cambi idea, allora la cambio anch'io, eh? Eeeh, che... Schivano, eh? E andiamo a curiosare in quella valle, che ho visto prima un puntino luminoso. Che roba è quella? Eh, golem di roccia. E poverino, mi fa pena. Si è inginocchiato e rimane lì così a aspettare... Eeeh, quasi quasi non l'uccido, poverino. Ci penseremo dopo. Procediamo verso la città, va? Dunque, ma questo cos'è? Una specie scalinata? Non è che c'è qualche passaggio segreto? Visto il tema del DLC. No, si pare di no. Ok, dai. Entriamo passando dal retro. Che magari scopriamo qualche bella cassa. Ma che? Vabbè, dai, allora torniamo allo scoperto. Siamo vicini all'ingresso, eh? Guardate il rombo sulla minimappa. Questi che vogliono. A questo punto me la gioco un po' anche con le granate. Vai. Vai. Quasar, ancora equipaggiate dalla lotta con Master G. Beh, è comodo. Mi concentro nei nemici in un punto. E poi arandello con le Babymaker. Ah, ma davo per scontato una cosa. Lo sapete, è vero? Che quando ricarico le Babymaker vengono lanciate e vado a infliggere un danno pari a tutti i proiettili che sono rimasti nel caricatore. Quindi conviene di solito parare un colpo, ricaricare, in modo da infliggere il danno massimo. Mi sono fatto strada sulla collinetta che ho inquadrato prima sulla destra. E qui l'incontro col primo cassone. Mi ha fin spaventato perché sembrava dovesse saltare fuori chissà che cosa, magari qualche nanoscheletro leggendario, roba del genere, invece no. È soltanto scena, oltretutto per un bottino misero. Ma non lasciamoci distrarre troppo dalla missione principale. Cerchiamo di vedere almeno quello che c'è al di là. Di scoprire quindi la seconda location. Il rifugio della roccia di fuoco, più o meno, traducendo. Sbirciatina, poi termino il video, anche perché non so quanti di voi stiano apprezzando semplicemente un gameplay, o di vedere quest'anteprima. Capirò dai commenti, capirò dal numero delle views, dai mi piace, se ha un senso continuare, oppure attendere solo quando sarò pronto ah, che bellezza. Per i video relative ai farming, all'uttenimento delle leggendarie, gli oggetti blu unici, eccetera. Bellissimo. Bellissimo. Devo smettere di giocare, se no vado avanti all'infinito. Mi deve imporre di smettere, ragazzi. Io non sono in vacanza. Voi siete giovani, ed è giusto, siete in vacanza. Io no. Anche perché nel frattempo penso di impegnare un pochino di tempo per continuare con i video sulle leggendarie delle attuali playlist, insomma, Raid Boss, eccetera. Va bene, vi do in ogni caso l'appuntamento ad un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.